Anche se adesso so benissimo che in realtà non l'avrei tornato, perché io non ero la loro vera sorella come pensavo. Mamma, eccoti le uova. Grazie tanto, piccoli, e adesso andrò pure a giocare. Deve essere stato molto difficile per lei a levarmi sapendo le figlie di un esiliato. E sia Abel che Arthur si sono inaugurati di me. E io volevo solamente a cerrodo sorella.